Il Signore sia con te e con il tuo spirito, Ave Maria, piena di grazia, Padre nostro, che sei nei fieli, eterno riposo, donna loro Signore, Sangino, prega per noi, che sei tutto, tutto. Benvenuti ad una nuova puntata di Viaggio in Molise, dedicata allo spettacolo degli amici di Katia. Ci troviamo al Bar Centrale, che questa sera ha deciso di offrire a tutta la popolazione campobassana uno spettacolo inedito, scritto e recitato da ragazzi molisani. È possibile sedersi qui e cenare, la serata è tiepidissima, è veramente una serata bellissima per restare a cena fuori con gli amici e godersi uno spettacolo inedito, uno spettacolo che è stato portato in scena da dei ragazzi che amano definirsi non attori e che veramente fanno una comicità pura, semplice, fruibile da parte di tutti, che garantisce tanta ilarità. Venite insieme a noi a conoscere gli organizzatori di questa serata, che veramente ci mettono animo e corpo ogni volta che vogliono proporre qualcosa di diverso alla città di Campobasso, e gli amici di Katia, che sono veramente simpaticissimi. Com'è bello incontrarti in questa passeggiata serale, in mezzo a tante anime volte al peccato, tante anime che non si incontrano negli sguardi compiacenti di chi si vuole bene, tanta gente che non si ama, che si odia a primo acchitto, che fa dell'invidia la propria motivazione, tanta gente che non ricorda da dove viene e non sa ne tanto meno dove va, Pippo. Io ricordo, caro Pippo, quando arrivassi da Milano quindicenne, eri piccolino così. Questa sera, insomma, la situazione è particolare, siamo in una delle piazze centrali di Campobasso, ci saranno persone sedute a tavola che mangeranno, però principalmente lo spettacolo sarete voi. Ecco, portare un po' l'arte in strada, spettacoli piccoli alla portata di tutti, però rendere, insomma, una forma d'arte come la vostra fruibile è un grande passo avanti che, come hai detto tu, nasce dall'idea vostra, ma anche in collaborazione con Michele. In effetti hai detto la cosa giusta, alla fine il nostro è anche un segnale per dimostrare a qualcuno che bastano piccole cose poi, in effetti, per muovere un po' una situazione che è diventata discretamente ferma, anche pesante per certi versi. Città come Campobasso sono città che hanno bisogno che gli si accendi semplicemente la miccia e dimostriamo che veramente con pochi soldi e con tanta passione si può creare divertimento e anche un po' di svago, soprattutto in una città che non è assolutamente brutta, che non deve essere ricostruita, avrebbe bisogno di una ristrutturazione, diciamo così. Non siamo certamente noi salvatori della patria, però facciamo gruppo e ci divertiamo a farle queste cose e ci teniamo molto alla nostra città. Siamo in una piazza bellissima, vederla così spenta tutte le sere è anche un po' un dolore, chiamiamolo così. L'ultima domanda, quella più difficile, ieri al Savoia con Pensieri Sparsi, oggi qui al Bar Centrale con Borotalk, domani dove vi troveremo? Non lo sappiamo, non lo sappiamo perché noi andiamo dove ci ospitano, anche perché poi costiamo anche poco. Magari con un par di birre possiamo far fare un po' di risate a qualcuno, ma non lo sappiamo, fondamentalmente non ci teniamo nemmeno. La differenza che passa tra un palco di uno dei teatri più belli che ci sono nel centro-sud, che è il nostro teatro Savoia, e un palco che diventa bello allo stesso modo anche se magari è due metri per quattro, per noi non fa nessuna differenza. Ripeto, noi siamo quattro cazzari, che facciamo non spettacoli e dunque va bene così. L'ultima domanda, anzi l'ultimo intervento è d'obbligo per il creatore del nome del gruppo, Giorgio Barletta, il quale ci ha tenuto a specificare che lui ha più di 10.000 visualizzazioni su YouTube, quanti mi piace su Facebook? Innanzitutto 5.500. Perdonami. E controllo fra poco le altre. Saranno arrivate a 10.000 secondo me. No, 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 no. Poi la domanda qual era? La domanda è, di che cosa tratta questo scherzo e chi vuole vederlo, che deve fare? Allora, chi vuole vederlo può cercare su YouTube Katia di Fastweb. Di cosa tratta? Tratta di una noia che colpisce tutti quelli che sono chiamati negli orari più improbabili, da Fastweb, Tele2, tutte queste compagnie telefoniche, che chiamano a qualsiasi orario. Dal momento che io sono un nullafacente di professione, ho trovato il modo di rendere pubblica questa mia voglia di vendicarmi e ho avuto un discreto successo. Siamo in compagnia di Libero Ranallo. Allora, veniamo da un inverno dove al Caffè Prestige ci sono stati eventi di ogni genere, dalle cene mediovali alle cene spettacolo, alla presenza dei DJ, a comici di livello nazionale. Adesso per la stagione estiva ci spostiamo al Bar Centrale e inauguriamo questa stagione con una cena all'aperto, una cena spettacolo. Una scelta importante, ancora una volta il tuo direttore artistico propone qualcosa di nuovo e tu da titolare lo appoggia a pieno. Sì, allora buonasera a tutti, siamo al Bar Centrale, in uno scenario in piazza Municipio che vogliamo riscoprire un po' il centro di Campobasso. Con la speranza che il tempo ci accompagni, abbiamo messo in campo una programmazione dove andremo a fare delle cene con degustazioni di aziende vinicole e diciamo che ci è venuta l'idea di coinvolgere dei ristoratori di Campobasso, quindi faremo delle sinergie con altri locali di Campobasso. Questo nell'ottica di fare sempre qualcosa di diverso, di fare delle cose semplici che alla fine hanno successo. Questa sera ci sono gli amici di Katia con uno spettacolo inedito, questa è proprio la primissima che presentano a Campobasso, un gruppo di ragazzi giovanissimi, Campobassani, che da soli scrivono i propri pezzi e che hanno deciso di esibirsi qui per offrire veramente a chi viene a cena, insomma il ristorante del Bar Centrale è rinomatissimo, chi viene a cena uno spettacolo nuovo, uno spettacolo fresco, specialmente divertente. Sì, volevo fare una premessa sulla cena, noi facciamo 5-6 piatti semplici giusto per accompagnare la serata. Quest'idea di questi ragazzi di Campobasso ci è stata prospettata e noi l'abbiamo colta al volo, non sappiamo lo spettacolo com'è, però siamo fiduciosi nella riuscita e nel successo della serata. Libero, diciamo la verità, tu insomma da titolare sei molto attento all'esigenza del cliente, appoggi sempre per prima cosa il benessere di chi viene a cena nei tuoi locali, chi viene per rilassarsi, chi viene per divertirsi, offri un servizio abbordabile per tutte le tasche con divertimento garantito di qualità. Un momento di crisi difficile, una ricetta del successo questa sicuramente efficace. Ma guardi, io penso che oggi in un mercato così difficile, di crisi, noi gestori dobbiamo dare di più rispetto a quello che era il mercato fino a qualche anno fa. Quindi dobbiamo adeguarci alle richieste dei clienti e sono momenti particolari. Il lavoro che facciamo noi è quello di far stare bene la gente, di fargli fare un sorriso, anche se hanno dei problemi dove noi cerchiamo di, almeno con l'oretta, l'oretta e mezzo che viene nello spettacolo, di non pensarci. Hai parlato poco fa di sinergie, unire insomma le forze di tutti voi ristoratori che offrite un servizio alla popolazione per risvegliare un po' l'ambiente di Campobasso. Questa sera, la prima serata, siamo proprio al centro, come dicevi tu, della città nel cuore di Campobasso. C'è veramente una grandissima affluenza. Quali saranno gli appuntamenti futuri? Ma io questo lavoro lo intendo, cioè sinergie significa collaborazione con gli altri locali, fare andare un po' più al di là del discorso della concorrenza, dell'invidia, questi sono discorsi un attimino passati. Se si fa una programmazione insieme agli altri locali si possono fare delle belle cose. Questa è la nostra missione, il nostro obiettivo. Senti, prendi questo regalo, prendi i fiori, riportali a Vincenzino, dici che non è gradito e basta. Stai restituendo tutto? Sì, sto restituendo tutto. Sei sicuro? Sì. Non ci vuoi ripensare? No. Non è che per caso di voi tenere il biberon e mi dai il ciuccetto e mi dai il biberon? No. Sei sicuro, sicuro, sicuro? Sicurissimo. Sei sicuro? Sì. E allora sappi che tu un giorno te ne pentirai e te ne pentirai amaramente e vuoi sapere perché? Perché? Perché un ciuccetto è per sempre. Bisogna cercare di fare delle cose piacevoli, gradevoli, anche con dei budget un po' limitati e non facendo spendere molti soldi alle persone. diciamo che con 15 euro noi cerchiamo di farli cenare e fargli vedere uno spettacolo che sia musicale, che sia teatro, che sia un DJ. Quindi cerchiamo insomma di farlo più per passione. Poi logicamente accanto ci deve stare il nostro lavoro, ci deve stare anche altro. Al Prestige abbiamo fatto tante belle cose come cacabarè, cene spettacolo, cene medievali, abbiamo chiamato dei DJ conosciuti in Italia e anche in Europa e quindi sono soddisfatto. Questa è una location diversa, insomma è una piazza, quindi c'è anche un po' di stress in più quando lo fai in piazza. Però le idee ci sono, faremo altre cose. Questa qui di stasera, un'altra l'abbiamo fatta la settimana scorsa con una pizza aperitivo, quindi delle pizze un po' particolari abbinate a dei cocktail. Questa sera ci sarà il teatro, poi un po' di musica e c'è in... stiamo per mettere su una rassegna enogastronomica con la collaborazione di altri ristoranti di Campobasso. La rassegna la chiameremo Ristoranti Sotto le Stelle e ognuno insomma preparerà i loro piatti forti, ci saranno anche ristoranti di Termoli che cucineranno il pesce e altre cose le sto valutando, sto vedendo insomma come poter fare. Farei di più, farei tanto, molto di più, però adesso non è il momento di sbilanciarsi e dobbiamo cercare sempre di stare insomma in un equilibrio. Devo fare un applauso a Nicola e Libero che mi permettono di fare questo perché la maggior parte scusate, si vede sempre le somme finali, noi cerchiamo di investire anche in questo, cercare di avere più gente intorno che ci segua, una volta va bene, una volta va male, però bisogna anche regalare qualcosa. E per questa puntata di Viaggio Molise è tutto, seguiteci su Telemolise, canale 11, sul canale tematico Molise Mio, visibile sul 212 del digitale terrestre, potete seguirci anche dall'Abrutto sul canale 96 oppure tutte le puntate di Viaggio Molise le ritrovate sul sito www.telemolise.com vo.com Grazie a tutti.